buon natale gerson buon natale a tutti come va e aspettavo i miei regali ma non vedo niente ma ho ricevuto la tua letterina pochi giorni fa e mi sono subito dato da fare per portarti la leggiamo anche al pubblico perché giustamente caro babbo natale sono un grande tifoso interista fin dal primo scudetto vinto nel 1909-1910 la formazione? quest'anno purtroppo non sono stato così buono a causa dei miei pronostici sbagliati infatti ho aggravato la crisi delle famiglie italiane per cui ti chiedo umilmente solo tre regali andiamo a leggerli allora il primo è il pallone d'oro a Pereira questo mi dispiace Paolo ma non posso accontentarti il secondo un attacco improvviso di calvizie per Conte per Conte vediamo un po' se sono riuscito a ah no questa scusa è di Vanna Marchi ho sbagliato rimedierò e il terzo dono vediamo un po' è che Wesley Snyder rimanga all'Inter vediamo un po' se in questo caso posso accontentarti allora aspetta che vedi che cosa sarebbe chiesto? sto spalmando il contratto non era questo il problema? sì certo certo e quindi rimane all'Inter rimarrà all'Inter ah mi fa piacere grazie Vavo Natale grazie dei regali che mi hai portato grazie andiamo a finire la letterina perché se no se saprai esaudire almeno uno dei miei tre desideri ti prometto che nel 2013 inserirò un tuo spot durante la nostra trasmissione con interessato affetto tuo Paolo che bella lettera sei contento? ti ho fatto una bella lettera questa risata mefistofelica allora Paolo partiamo con la trasmissione che sarà meglio sto innalando baffi in maniera spropositata ma allora torniamo seri perché è stata una grande settimana di sport abbiamo avuto la Coppa Italia in cui l'Inter come al solito ha spadroneggiato contro chi ha vinto l'Inter? ha vinto ha vinto ha vinto è passata non ci interessa neanche l'avversario siamo così superiori poi Milan Lazio insomma tutte avanti tutti Juve ma il clou della settimana è stato il grande sorteggio delle coppe europee della Champions allora Milan-Barcellona cosa ne pensi? è dura dura e comunque sai anche l'Inter era stata sorteggiata con il Barcellona e poi ha vintolo a Champions quindi non si deve disperare il Milan poi la Juve la Juve ce la faccio come ce la faccio? va in Scozia tranquilla tranquilla ha già passato il turno la Juve e poi le coppe minori come al solito ci tocca parlarne anche di queste abbiamo l'Inter che affronterà i rumeni del Clougie è dura e poi se passa con Liverpool dovrebbe avere quindi molto bene Liverpool contro lo Zenit poi abbiamo Lazio-Borussia-Mönchengladbach anche lei ce l'ha abbastanza dura forse è più difficile da pronunciare che da affrontare e poi abbiamo l'ultima squadra italiana al Napoli che affronterà il Vittoria il Vittoria-Plzen il Napoli è più tranquillo di noi va bene ma questo lo vedremo ormai nel 2013 ormai chiudiamo quest'anno concludere l'anno e lo facciamo con una puntata con un sommario ricchissimo come la pancia di Babbo Natale allora avremo la pallanuoto la vela la pallavolo il basket il calcio le freccette la pallamano le bocce l'atletica e le previsioni per Natale il Natale sportivo degli amici di Sport TV e ovviamente i pronostici finali di Achille Penellatore i pronostici finali che speriamo di poter regalare ai nostri amici a casa qualche guadagno per poter fare ancora gli ultimi regali ce lo auguriamo tutti partiamo col primo servizio allora parliamo della pallanuoto perché la Mediterranea ce l'ha fatta è salita sul tetto d'Europa battendo nella finalissima della Supercoppa Continentale il rapallo nella bolgia della Cascione vediamo con una cavalcata trionfale un gioco spumeggiante una difesa attentissima un attacco travolgente e le splendide parate di Giulia Gorlero la Mediterranea si aggiudica con pieno merito la Supercoppa Europea messa in palio tra le vincitrici della Coppa Campioni e della Coppa Leng piegando il rapallo per 10 a 7 in una cascione resa infocata dal tifo di oltre 800 spettatori le giallorosse fanno propria una partita dominata dall'inizio alla fine nella quale sono arrivate anche ad avere otto lunghezze di vantaggio prima del rilassamento conclusivo in avvio dell'ultimo quarto la Queirolo riaccende una timida speranza per il rapallo ma quando la pomeri 5 minuti dal termine sigla il gol del 10 a 5 alla cascione si comincia a sentire profumo di festa è fantastico è fantastico veramente aver scritto il nome di Mediterranea così in alto è un'Europa è un onore veramente fantastico sono ragazze eccezionali quando c'è il momento di dare sanno dare e questa sera ci hanno regalato qualcosa di fantastico grazie a tutto il pubblico passiamo un Natale felicissimo siamo pronti per un 2013 e metterci ancora più energia che ce n'è tanto bisogno per tutti grande Mediterranea anche per tutta Imperia è una grande soddisfazione sicuramente sicuramente momenti come questo direi una piscina così una città così che risponde a questo modo a queste ragazze è veramente bellissimo e ci fa sentire orgogliosi di essere imperiesi in questi momenti e soprattutto in cima all'Europa quindi si può dire che lo sponsor Mediterranea porta bene ma non tocchiamoci perché sono sempre superstizioso dicevo che ho paura che ciò non accadesse invece è accaduto Marco Capanna è stupendo e speriamo che anche Mediterranea negli affari un po' di fortuna ce la sta mettendo e speriamo che con l'aiuto di tutti è sempre la squadra che vince come in acqua così in tutta nella vita è sempre sono felice e orgoglioso è un'emozione fantastica Presidente grande soddisfazione questa Supercoppa a Imperia sì ma io sono molto soddisfatto per la squadra per le ragazze ma la cosa che più mi fa piacere dire è che Imperia è sul tetto d'Europa la città d'Imperia e tutti i suoi cittadini e la sua squadra il pubblico ha risposto c'è stata una bella risposta del pubblico devo dire la squadra ha giocato veramente una grande partita soprattutto i primi due tempi non è un risultato da poco essere i primi in Europa avete battuto una grande squadra perché Rappallo è una grande squadra questa è una squadra di fenomeni ha vinto la Coppa di Campione ha vinto il campionato attualmente è in testa al campionato però con noi non c'è stato niente da fare a me fa piacere ricordare il fatto che con lo sport si può portare Imperia e esportare il nome di Imperia nel resto d'Europa dove può arrivare questa Imperia? io non creiamo delle aspettative perché questa è una squadra che può dare moltissimo e sono sicuro che farà molto bene anche nel campionato però però adesso è presto per dirlo complimenti Marco le ragazze hanno fatto quello che volevi tu determinate in basca si si sono state bravissime abbiamo fatto terzo e quarto tempo non bene anche se non era facile perché comunque loro volevano rientrare in partita ma credo il primo e il secondo tempo perfetti quelli che devi fare nel momento decisivo e se lo fai nel momento decisivo il meglio vuol dire che sei bravo e loro sono brave e per questo sono le più brave d'Europa oggi avete portato la Supercoppa Imperia per la prima volta una grande soddisfazione a chi la vuoi dedicare? la dedico a Cecilia Solaini che oggi era quattordicesima e a queste ragazze perché per me non c'è soddisfazione più grossa di vederle così contente perché so quanto valgono quanto lavorano e che hanno avuto la capacità di non porsi mai limiti ma di provare sempre a fare qualcosa che nessuno pensava ci fossero riusciti e quindi se lo meritano per me la soddisfazione più grossa è vederle così contente il frutto di un lavoro serio e preparato frutto di un lavoro serio frutto di di sapere lottare quando c'è qualcuno che rema contro di non mollare mai di far star zitti chi parla male di non vantarci di non perdere l'umiltà o la testa su quello che dobbiamo fare un lavoro un lavoro che non è finito e adesso vi butterete sul campionato e poi la cembio adesso ci buttiamo a crescere a recuperare punti in campionato perché ne abbiamo persi tanti e vogliamo arrivare in fondo e più delle coppe io mi ricordo la finale persa Scudetto l'anno scorso e voglio ricordarmi quello e quindi lavoriamo beh la dedico a tutti i tifosi d'Imperia che ci seguono sempre sempre in tanti è proprio bello giocare nella piscina piena sei entrata in campo determinata sabato ti sei tenuta alle reti per questa sera no veramente non me le tengo mai le reti avrei per tutti i giorni non è questione di tenersi o di gestirsi nonostante i miei quasi 40 anni non mi gestisco e cerco di dare sempre il massimo e oggi tutta la squadra è entrata determinata sono giorni che sappiamo cosa dobbiamo fare stasera abbiamo fatto quello che abbiamo preparato e quello che sapevamo di fare Giulia Gorlero è sicuramente l'eroina di questa partita attraverso le sue mani sono arrivate le parate più importanti della serata quelle che hanno restituito sicurezza alla squadra che ha vinto questa finalissima di Coppa Giulia hai anche la medaglia rotta eh sì ce l'ho pure rotta l'importante è aver vinto la Coppa e ci siamo riscattate da sabato non avevamo fatto una bella partita ma questa Coppa è venuta in casa nostra e doveva rimanere in casa nostra ci abbiamo messo tutto per vincerla e siamo felici perché abbiamo dato un bello spettacolo e a noi ci siamo ci siamo reso orgogliose di noi stesse noi siamo partite male loro sono partite hanno approcciato la partita meglio di noi quindi loro hanno vinto meritatamente ecco questo approccio da parte del questo approccio da parte dell'Imperia se lo aspettava così forte sì sicuramente sì una partita secca poi una squadra come loro giocavano in casa avevano organizzato sì siamo noi che ci siamo dovevamo partire forte anche noi non l'abbiamo fatto siamo usciti alla distanza ma ormai il gap era troppo serata grande serata e anche noi siamo fieri di poter ospitare le campionese d'Europa sì ho vissuto una serata veramente ho visto che avevi un po' la voce rotta dall'emozione sì perché mi hanno impressionato il primo tempo sono andato sul 4 a 1 è stato bellissimo comunque avranno tempo i telespettatori di vedere tutta l'intera gara il venerdì 28 ah bene dopo il breve Sport TV che noi faremo perché ci sono le feste quindi lo faremo brevissimo un panettone un pandoro certo e rimaniamo in acqua restiamo in acqua e gustiamoci delle spettacolari immagini dell'ultimo appuntamento del 2012 con autunno in regata weekend scarsamente ventoso ma con temperature primaverili nello specchio acqueo antistante lo Yacht Club Sanremo per quanto riguarda autunno in regata le classifiche sono rimaste invariate rispetto alle scorse regate con Karim Perru su First Fun premiata per il primo posto nella classifica overall e nelle classi ORCA e IRC Giuseppe Magliocchetti su Emanuela vincitore nel gruppo ORCB Blueswell di Perpaolo Lerda dello Yacht Club Sant'Ampelio primatista nella classe Racing Club 1 Michele Orlando con Gulliver al comando della Racing Club 2 e infine Gianni Berretta con Wall-EB dominatore in contrastato della classe Gran Crociera grande fermento anche per il raduno delle derive per quanto riguarda gli optimist 40 equipaggi si sono allenati in vista del meeting internazionale del Mediterraneo che si svolgerà dal 27 al 30 dicembre sempre allo Yacht Club Sanremo sabato pomeriggio infine dopo l'allenamento i ragazzi accompagnati da una cioccolata calda hanno partecipato al premio Pier Cesare Pastore borsa di vela giunta alla seconda edizione e assegnata di Open Day I prossimi appuntamenti che completeranno il circuito di manifestazioni sono inverno in regata in calendario per i prossimi 12, 13 e 26 e 27 gennaio e il Festival della Vela del 23 e 24 febbraio Complimenti al cameraman ha fatto delle immagini Paolo oggi bravo Gerso bravo Gerso bravo Allora visto che noi abbiamo una veste che ci impone di essere buoni soprattutto con i più piccini andiamo a vedere la seconda parte dello speciale Sea Basket che abbiamo già proposto nella scorsa puntata dunque secondo appuntamento con la squadra di Mauro Bonino la passione dei tecnici e l'entusiasmo dei piccoli atleti nel servizio Quanto è bello ma quanto è difficile anche allenare questa mandria di ragazzini qua nel pallone di via Barabino Sì è difficile però a volte anche molto gratificante perché comunque lavorare con i bambini è sempre bello soprattutto quando vedi che i bambini ti rispondono e ti danno il loro il loro sentire ti sentono e quindi adesso stanno aspettando perché io ho dato dei compiti allora loro ti danno queste piccole soddisfazioni ovviamente ovviamente a queste età si cura più magari il lato formativo il lato comportamentale più che quello dell'atleta che dovrà diventare poi sicuramente si riguarda molto l'aspetto ludico del gioco si cerca di trovare un sistema per far giocare e far capire ai bambini certi movimenti ma sempre dal punto di vista ludico che se no i bambini troppe imposizioni già le hanno a scuola poi le hanno anche dello sport e si possono anche possono anche non accettare certe regole ma troviamo sempre soprattutto con loro aiuto lo spirito giusto io mi chiamo Jacopo Jacopo ruolo? tutti tutti i ruoli sei un universale quindi farai un sacco di canestre a partita sì abbastanza vittorie che ricordi con più soddisfazione della tua lunga carriera? no sono troppe troppe io mi chiamo Flavio Naimi il ruolo non lo so ancora e allora vittorie? vittorie non lo so ancora neanche neanche una? diciamo sì ma qua l'importante cos'è? vincere o divertirsi? divertirsi Mattia Mattia giochi a basket da tanto tempo? no tu facevi calcio prima? sì in che squadra? sarei mesi e come mai sei passato al si basket? perché non lo so è meglio la San Remese o il si basket? si basket Paolo quanti anni hai? otto otto anni sempre fatto basket no anche calcio anche calcio Samuel mi chiamo Samuel 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 allora è da tanto tempo che fai basket? sì quanto? quattro anni e quindi il tuo idolo è? non lo so Nicola Nicola allora tu sei il più grande qui fra tutti al canestro ci arrivi con una mano sola no? sì mi chiamo Lorenzo sono di San Lorenzo sopra il Solaro sopra il Solaro hai sempre fatto solo il basket nella tua vita sportiva? come sport sì mi chiamo Alessandro Alessandro sei di Sanremo? sei di Sanremo? allora sono venuto a vivere a Sanremo però sono nata a Napoli sei nata a Napoli Tommaso Tommaso tu visto che sei non tanto alto sei un playmaker uno che costruisce il gioco non sei uno che fa le schiacciate sì Mirko hai sempre fatto il basket da che sport provieni? buono ho fatto tantissimi tipo? ho provato calcio tantissimi sport per piscina e qual è la differenza fra il basket e gli altri sport in positivo? che mi diverto di più che personalità gli amici del si basket hai visto? veramente favoloso siamo al quarto servizio abbiamo punto volley con l'ausilio di Cesare Fagnani come ogni settimana andiamo a scoprire quanto è successo nei palazzetti della nostra provincia e chi ha avuto la meglio sotto reti per la quinta giornata del campionato provinciale di Under 16 femminile domenica scorsa nella palestra Ormond Salis 20 Miglia che vedete in maglia rossa ha superato per 3 a 0 NLP blu gli altri risultati olio colto taggia NLP verde 3 a 0 NLP rossa Maurina 3 a 0 in classifica taggia 15 punti NLP rossa e Diano a 9 entrambe con una partita in meno proseguiamo con il settore femminile Under 18 decima giornata Maurina volley pallavolo argentina 3 a 0 Anfossi taggia Golfo di Diano 3 a 0 NLP rossa Salis 20 miglia 3 a 1 classifica Anfossi taggia quota 27 NLP rossa Salis 20 miglia 3 a 1 classifica a quota 27 Anfossi taggia e NLP rossa con una partita in meno Under 14 terza giornata Golfo di Diana Maurina B 3 a 0 volley team armataggia Gazera Sanremo 3 a 0 Salis 20 miglia Mazzucchelli rossa 3 a 0 classifica taggia 20 miglia punti 9 campionati regionali serie C ottava giornata Tattoo Planet Sanremo volley spezia 3 a 0 posticipata Quigliano Salis 20 miglia classifica Tattoo settimo posto 20 miglia ottava serie D ottava giornata Graglia Group NLP Sanremo 3 a 1 Anfossi taggia Lassio 3 a 0 classifica Anfossi seconda Graglia settima NLP ottava passiamo ai risultati di immagini del settore maschile prima divisione terza giornata palestra cittera Coapi Sanremo che vedete in maglia nera ha sconfitto per 3 a 0 la polisportiva spotornese gli altri risultati Pio decimo lo hanno Tremoviter Sanremo 3 a 0 Albissola Cariparma 3 a 1 classifica Sabazia 9 punti segue a 6 punti un gruppo di 5 squadre tra cui Coapi Sanremo serie C settima giornata vittoria al tiebreak per le grafiche Amadeo sull'Unezia Volley sconfitta al tiebreak per Cariparma Imperia con pallavolo Genoa classifica Cariparma sesto grafiche 9 serie D per la sesta giornata la pizzeria mediterraneo Sanremo ha superato per 3 a 0 Ceparana portandosi così al sesto posto in classifica Under 17 un risultato Albissola B Gazzara Sanremo 3 a 0 prima giornata di Under 15 Cariparma voletì in finale 3 a 1 Golfo di Diano Sanremo Volley NLP 3 a 1 domani sono in programma queste partite Under 14 femminile Ormon 16 Gazzara Sanremo Maurina B Under 15 maschile Palaitis 18 Cariparma Albissola Palacanepa 18 e 30 Golfo di Diano voletì in finale C maschile Palaitis alle 21 Cariparma Lavagna D femminile Ruffini Taggia alle 21 Graglia group Marimola e C femminile Ormon alle 21 Tattoo Planet Quigliano Domenica Under 14 femminile Ruffini alle 11 Maurina A Mazzucchelli Rosa Ormon alle 11 Mazzucchelli Azzurra Voletim Taggia E su E su questi ultimi appuntamenti dell'anno 2012 auguro a tutti gli amici di Sport TV Buon Natale e Buon Anno e in particolare auguro a Paolo Gerson un 2013 ricco di pronostici azzeccati Grazie Cesare grazie Cesare grazie mille intanto qua è mancata la luce qua i maia cominciano ad azzeccarci fai partire tutto fai partire tutto senti che auguri ti piace la musichetta e allora ci ballerei sopra ogni sera guarda però questo buio ci attenua un po' i difetti mi piace molto grazie regia arrestate Paolo perché auguri anche a Cesare Fagnani auguri a tutti i nostri tecnici il cameraman il suo augurio gli faremo oh è ritornata la luce è ritornata la luce vedi no beh allora gli auguri di Cesare Fagnani ci fanno piacere però non ci chieda cose impossibili i nostri pronostici sono per definizione sono quelli che sono sono quelli che sono dai va bene va bene allora noi andiamo a vedere invece cosa è successo per quanto riguarda la palla a mano perché il 2012 del Ventimiglia si è chiuso con una sconfitta preventivabile contro la capolista Cologne e con un ultimo posto in Serie A2 che lascia però ancora ampi margini di speranza per la saldezza gli highlights del testa coda e le ultime sugli Oscar dello sport nel servizio nella nona giornata del campionato di Serie A2 la palla a mano Ventimiglia in maglia rossa ha resistito solo un tempo contro il Cologne e Mettelli operando comunque un'encomiabile resistenza nonostante la rosa risicatissima e la presenza indistinta addirittura di A2 under 16 la squadra bresciana sottovalutando il testa coda non è riuscita a sfondare nella prima frazione chiusa sul 15-12 ma ha operato il break decisivo ad inizio ripresa chiudendo in crescendo per un 35-19 finale che non ammette repliche al Ventimiglia non sono bastate le 11 reti di Dattis e un grande carattere per restare in scia la dirigenza frontaliera archivia così senza strascichi la trasferta a Lombarda con la consapevolezza che la salvezza dipenderà in gran parte dall'esito del primo match del 2013 che vedrà i ragazzi di Malatino Giordanella e Antoniol affrontare il Crenna terz'ultimo in casa il 19 gennaio per chiudere il 2012 intanto una buona notizia che arriva dal CONI provinciale la società pallamano Ventimiglia infatti sarà premiata nel galà degli Oscar dello sport per le prestazioni di rilievo fornite nel corso dell'anno convenzione speciale per l'under 18 campione interregionale Liguria-Piemonte Speriamo che si riprenda al Ventimiglia per l'anno nuovo Speriamo perché è una bella società Noi lo seguiremo come sempre E allora siamo arrivati al punto basket Punto basket Come ogni puntata andiamo a scoprire tutti i risultati le classifiche e i prossimi turni in cui saranno impegnate Basket Club Ospedaletti e BBC Sanremo con le sintesi di ben tre partite Fine settimana da incorniciare per la pallacanestro Ponentina a partire dal ritorno al successo in serie di maschile del basket club Ospedaletti che ha travolto i genovesi dell'audace ottica Sparviero sforando quota 100 Gli Orange forti di una difesa sfissiante di un contropiede fulmine o di una condizione mentale ottimale hanno scavato un solco via via sempre più profondo portandosi già avanti 37 a 8 nel primo quarto e addirittura 57 a 12 all'intervallo lungo Il 100 a 2 a 41 finale porta le immancabili firme di Bongioanni 24 punti a referto e Baggioli 17 ma ottime le prove di tutti i giocatori impegnati nelle ampie rotazioni effettuate da al coach Lupi con Danubio e Sartore in doppia cifra Proprio Lupi a fine gara ha esternato la sua soddisfazione per la rotonda vittoria ma ha già posto nel mirino l'ostico DLF Spezia da affrontare con la stessa giusta tensione Nella seconda giornata di ritorno di Serie B femminile importante vittoria anche per le ragazze dell'ospedaletti che hanno espugnato Chieri col punteggio di 54 a 40 una partita a senso unico che ha visto le Orange incrementare gradualmente il loro vantaggio rischiando qualcosa solo nel terzo periodo MVP del match senza dubbio Roberta Sarti gravata sì nel finale da 5 falli ma autrice di 26 pesantissimi punti con questa vittoria la squadra guidata da coach Carbonetto si installa stabilmente al terzo posto in attesa di incontrare la capolista Nadirex Castelnuovo Scrivia al palazzetto di Viaisnar nel big match del prossimo 12 gennaio nell'ottava giornata del campionato di promozione invece il BVC Sanremo riscatta la prova opaca di Cairo travolgendo il rivarolo per 61 a 40 nel primo quarto chiuso a più 13 appare già netta la maggior velocità di esecuzione e la buona vena dei tiratori matuziani cui fa da contraltare la scarsa efficacia in penetrazione dei genovesi l'unica battuta a vuoto giunge nel secondo parziale ma le distanze si mantengono sempre su livelli di sicurezza grazie soprattutto alle prove di pistola Gianforte e Tacconi che chiudono tutti in doppia cifra soddisfazione nell'entourage BVC con Coach Amato che esulta per la quinta vittoria conquistata in otto gare elogiando i suoi per la grande intensità difensiva e per la coralità del gioco d'attacco nell'ottava giornata del campionato Under 15 infine nota di merito ancora per il BVC capace di imporsi sullo Juvenile Avarazze per 65-44 dopo la battuta di arresto di Cogoleto infatti i ragazzi di Coach Martini hanno sfoggiato una prova di grande determinazione e concentrazione sfruttando la maggior prestanza fisica unita ad un livello tecnico mantenuto alto per tutta la durata del match è stato Vallefuoco con 24 punti a referto a spaccare la gara ma ottime anche le prestazioni di Tovoli e Pacello in doppia cifra che hanno permesso una buona gestione nel finale con ampie rotazioni Ah hai visto? Quanto basket quanto basket eravamo onnipresenti su tutti i campi e auguri anche a Raffaele Danubio grazie a Danubio che ci fornisce sempre delle immagini spettacolari e adesso pubblicità e dopo la pubblicità tocca a te tocca a me con il calcio non con l'Argentina che ha riposato forzatamente la scorsa settimana perché è stata rinviata la partita con la Riva Rolese e questa domenica giocherà a Loano partita molto importante e già direi decisiva per allungare il vantaggio in vetta contro l'ex Biffi contro l'ex Biffi esatto che sta facendo veramente bene e allora noi parliamo delle squadre San Remesi San Remese Virtus che continuano la loro rincorsa la promozione in seconda categoria questa domenica siamo andati a Pian di Poma dove la società del presidente Moroni ha sconfitto per 7-2 in Riva Ligure irrompendo prepotentemente in zona playoff vediamo come con quali prospettive per il 2013 nella nostra sintesi Presidente un bilancio su questa prima parte della stagione un bilancio che fino adesso è discretamente positivo perché fino a questo momento siamo abbastanza in linea con quelli che sono i programmi cioè di cercare di arrivare nei playoff manca una partita alla fine del giorno di andata se riuscissimo a far risultato domenica prossima molto probabilmente gireremmo nelle prime 5 adesso al di là di quelli che potranno essere gli altri risultati e poi abbiamo tutto il giorno di ritorno per da sfruttare con anche i nuovi acquisti che abbiamo fatto nelle ultime settimane che hanno il tempo adesso nelle vacanze di Natale di allenarsi bene mettersi in forma e se facciamo un giorno di ritorno come tutti ci aspettiamo l'obiettivo è alla portata questo 1-0 nel derby con la San Remese ha un significato al di là dei tre punti della singola partita ma il significato è perché un derby fa sempre piacere vincere però le partite sono tre punti sono contro la San Remese come così contro l'ultima in classifica e il bello è solo perché comunque è una partita che era sentita da tutti i giocatori quindi fa piacere vincere però poi finisce lì anche perché insomma sono derby ma le categorie sono quello che sono con la Virtus ipoteticamente in seconda categoria i programmi societari potrebbero cambiare potrebbe esserci qualche svolta a livello di progetti qualche svolta potrebbe esserci abbiamo qualche mese per verificare vedere quando succederà qualcosa lo faremo certamente sta bollendo quindi qualcosa in pentola al momento no però a più a lungo termine sì le bocce siamo alle bocce la roverina di 20 miglia batte la benattese per 14 a 6 e la raggiunge in classifica sentiamo le interviste quest'anno non stiamo andando tanto bene perché non ci siamo quasi sempre tutti ecco il potenziale della squadra c'è soltanto che non riusciamo mai a esserci tutti insieme per cui oggi speriamo di vincere così muoviamo la classifica e vediamo un attimino comunque questa è una vittoria molto importante perché la benattese ha 5 punti quindi se vincete voi la raggiungete no? sì la raggiungiamo però dobbiamo vincere ancora qualche incontro per levarci proprio dal fondo della classifica allora c'è tutto il girono e il ritorno avrete tempo speriamo di sì ecco siamo a fine anno quindi facciamo un consultivo del campionato come è andato fino adesso allora il bilancio di quest'anno sicuramente possiamo dire che non è dei migliori siamo in attesa di cominciare il girone di ritorno dove speriamo di recuperare i punti perduti nel girone di andata quei punti che devono servirci a rimanere in categoria cosa vi è mancato quest'anno? ma al momento diciamo che lo sapevamo già in agosto quando abbiamo visto le altre formazioni il girone la nostra formazione probabilmente i tiri veloci sono quelli sui quali dobbiamo migliorare possiamo migliorare le altre formazioni lo fanno costantemente anche con grandi investimenti anche dal punto di vista economici noi purtroppo gli investimenti dal punto di vista economici non li possiamo fare puntiamo su tutti i prodotti locali come si direbbe quindi siamo chiaramente un attimino indietro rispetto alle altre formazioni ma restiamo convinti che nel girone di ritorno potremo dire la nostra oltretutto voi dall'anno scorso a quest'anno avete rinnovato la formazione avete inserito dei nuovi giocatori quindi hanno bisogno di amalgama sì abbiamo inserito dei nuovi giocatori alcuni sono giocatori che comunque da noi ci sono già stati altri sono alla prima esperienza moltissimi sono giovani puntiamo su questo gruppo giovane per rimanere in categoria come dicevo prima e così il prossimo anno con un anno di esperienza in più magari puntarei a qualcosina di più della salvezza siamo a fine d'anno fra poco ci saranno le feste di Natale fine anno vuol fare gli auguri ai tifosi certo colgo l'occasione per fare gli auguri di Buon Natale di Buon Anno 2013 a tutti i nostri soci e sostenitori a tutte le persone che sono comunque vicino alla nostra società hai visto che finalmente hanno vinto belle anche le immagini grazie a Domenico Pastorelli che approfittiamo approfittiamo anche per fargli gli auguri di Buon Natale a lui a sua moglie a tutta la famiglia facciamo un pronostico sulla Sampdoria come regalo di Natale sì fallo fallo lo faremo a fine puntata lo facciamo alla fine Domenico Desiglioli andiamo a conoscerlo e a osservare lo Scrat Team in azione è uno dei classici giochi da bar praticato come passatempo fin dal 1620 dai padri pellegrini inglesi in viaggio sulla Mayflower verso gli Stati Uniti le freccette o soft dart hanno nel ponente ligure un esponente di spicco il ventenne di cervo Domenico Desiglioli già vice campione italiano nella categoria B è in odore di convocazione per la nazionale che nel 2013 sarà protagonista in Cina, Germania, USA e Spagna Domenico appartenente allo Scrat Team è una delle punte di diamante di un movimento che tra Sanremo e Borghetto Santo Spirito coinvolge una quarantina di team impegnati in questo periodo nella fase cruciale dei campionati regionali a squadre di serie A Elite B Master e C Amatori tutti gestiti dalla FIDART due dei maggiori poli provinciali del gioco sono il Bar Roberta di San Bartolomeo al Mare e il Bar Galilei di Sanremo i bersagli elettronici devono essere centrati con una certa meccanicità gestuale mentale un mix di doti che si coniugano perfettamente in Domenico Desiglioli un 2012 da incorniciare sì è stato un 2012 fantastico sono arrivato secondo agli italiani e primo al Grand Prix di Modena come ti sei appassionato alle freccette? guardando la ragazzina guardando gli altri anche per l'ambiente tanti amici e il divertimento poi potrebbe anche esserci una convocazione in nazionale italiana a breve sì ci dovrebbe per un pelo dovevo essere nazionale però non ce l'ho fatta io vorrei arrivarci speriamo che ce la farò facciamo gli allenamenti durante la settimana e durante la settimana facciamo anche una partita di campionato San Bartolomeo siamo sei squadre poi c'è in Pelle che ci sono altre squadre e qua Sanremo puoi andare a provare? non so se ti accettano in squadra abbiamo per la prima volta proposto sui nostri teleschermi le freccette soft dart so che in Inghilterra va molto di moda questo sport speriamo che prenda piede anche in Italia anche perché è facile da praticare basta un apparecchio il ragazzo 20 anni è già un piccolo campione no? assolutamente sì perfetto allora siamo all'atletica la società di atletica Foce si è riunita per premiare i suoi atleti e parlare del futuro vediamo è la nostra festa la facciamo tutti gli anni è una festa che i ragazzini meritano anche le loro famiglie e abbiamo cercato di invitare le persone più qualificate lasciando da parte quelli che non ci piacciono e sono parecchi e invitando invece quelli che ci sembrano più vicini a noi e all'atletica in particolare ripeto il professor Quaglia che è anche il presidente della Maurina quindi questo che è molto importante quindi è un'assemblea di fine anno e farete un consultivo sui risultati che avete ottenuto quest'anno col consultivo cerchiamo di premiare tutti i ragazzi le ragazze le squadre e quest'anno è stata un'annata abbastanza importante molto buona anche se siamo senza campo non fa niente sono molti gli atleti che premierete e saranno circa non so una quarantina nonostante la mancanza di una pista d'atletica diciamo voi ottenete risultati comunque dove andate comunque dove andiamo anche in specialità che sono specialità dove la pista è molto importante molti si vanno sulla pista d'imperia per fortuna gratuitamente non non ci chiedono niente non potendo andare sulla nostra noi però abbiamo tanti saldatori in alto che ce li facciamo in casa tanti corridori velocisti a imperio abbiamo tutti i lanciatori più o meno perché c'è anche la gabbia per i lanci quindi vediamo di utilizzare uno e l'altro finché si può viviamo così molto importante per questa società sportiva a Foce e sono anche gli istruttori che sono molto capaci sì abbiamo un bel gruppo di istruttori quasi fanatici diciamo nel senso che fanno questo lavoro quasi tutti i giorni gratuitamente sono venuto perché la Foce rappresenta nel panorama regionale una delle realtà migliori soprattutto dal punto di vista giovanile non è che la FIDAL nazionale regionale attualmente stia vivendo dei grandissimi momenti però noi pensiamo che con il nostro impegno impegno degli atleti dei dirigenti dei tecnici di la Foce ma anche di tutte le altre società che lo fanno praticamente per passione praticamente per passione di portare almeno questo sport che è uno sport sano serio e che veramente costruisce forme e giovani a un livello che è arrivato 30-40 anni fa che purtroppo adesso vediamo che sta scemando sta scemando per tantissimi motivi che adesso sarebbe troppo lungo elencare di tutto però il problema fondamentale è la mancanza di visibilità il nostro impegno è costante il nostro impegno dura 365 giorni l'anno adesso ricordo che domenica c'è una corsa a Monte Carlo c'è il son delle indole a Nizia cominciamo già a gareggiare a dicembre finiremo a dicembre domenica scorsa c'erano le campestre delle isole c'è sempre un'attività continua non si ferma mai soprattutto poi quando si hanno degli atleti di un certo livello che devono arenarsi anche in momenti particolari per preparare degli impegni importantissimi e sia la Forza Sanremo con i suoi lanciatori con i suoi velocisti sia la Morina che ha avuto quest'anno delle prestazioni notevoli soprattutto con tre medagliati nei campionati giovanili insomma vediamo di tenere alto il nome della provincia di Imperia come vedete voi in regione questa mancanza di pista di atletica quando c'è è nata Sanremo una pista veramente bella e non viene assegnata allora tocca un tasto che mi sta molto a cuore questo problema del campo che è un problema che è settantennale perché a Sanremo si parla del campo di atletica da quando era stato praticamente inaugurato il comunale di Sanremo che aveva una pista nel 1932 è stato inaugurato con la partita Vienna Genoa e dal 1932 che i sanremesi aspettano una pista di atletica prima si gareggiava in Piazza Colombo c'era una pista nei giardini di Piazza Colombo e sono venuti tantissimi atleti di livello nazionale e poi con la passione soprattutto della Forza che ricordiamo è dal 1959 che praticamente carica le piste di tutta Italia che ha portato tantissimi atleti a livelli anche molto alti anche a livelli nazionali ricordiamo Gianmarco Schivo ricordiamo Cassini ricordiamo tantissimi altri dalla Soraro alla Farfalla alla Prosperi a Campenni ce ne sarebbero tantissimi nomi da fare per questa società ebbene questi ragazzi hanno gareggiato vincendo medaglie salendo sul gradino più alto del podio dei due campionati giovanili senza pista senza pista senza pista senza pista a volte i campioni fioriscono così sui terreni più aridi l'atletica ne sforna tanti l'atletica a poce ne sforna tanti purtroppo si devono allenare in un piazzale lì al buio eh sì l'abbiamo visto anche forse un paio di puntate speriamo che il 2013 ci porti questa pista che l'aspettiamo tutti più che portarcela che ce la renda disponibile solo quello è il problema siamo all'ultimo servizio Metro Sport eh sì anche se il nostro amico Achille Penelatoria anche se l'ultima settimana del 2012 non sarà ricca di eventi sportivi comunque noi dobbiamo precauzionarci chi andrà a sciare chi farà pallavola ci parlerà sul campionato che domani si gioca tutto di sabato cioè la Juve sta giocando adesso sta giocando ma noi non sappiamo nulla non sappiamo nulla non voglio sapere niente comunque ti do il risultato dopo va bene allora Achille Achille speriamo bene intanto buon Natale auguri anche a te famiglia Achille eh sì grazie grazie Gerson grazie Paolo degli auguri io li controcambio ma poi ve lo dico ancora alla fine questa settimana finisce bene per il sabato e la domenica quando ci saranno i maggiori i maggiori incontri sportivi il tempo sarà abbastanza buono un po' di nebbia in alcune zone però per la giornata di Natale devo dare per alcuni una notizia un po' così così ma per altri non è notizia buona specialmente per chi ama gli sporti invernali il giorno di Natale proprio transiterà un bel fronte freddo che in montagna scaricherà di nuovo un po' di neve questo per incentivare di nuovo il manto nevoso per il prossimo Capodanno ora vediamo cosa mi avete preparato questa mattina tu e Gerson innanzitutto è una partita che è in atto a Parma Cagliari Juve magari quelli di Parma se vogliono vedere dalla finestra al tempo che fa lo possono vedere comunque no a parte scherzi c'è da avvisare quando ritornate da questa partita per chi magari se qualcuno da casa vuole avvisare quando finirà la partita per il rientro da Parma e per gli amici tifosi del Cagliari e quelli della Juve state attenti alla nebbia avete sentito di un maxi tamponamento quindi fate molta attenzione sull'autostrada del sole oppure poi sulla 15 che scende a Spezia o chi scende dalla 26 fate veramente attenzione perché in territorio padano la nebbia è molto molto fitta poi cominciamo con la giornata di sabato domani alle 12.30 a Milano Inter Genoa forza Inter mi spiace per i genoani ma forza Inter il cielo sarà poco nuvoloso però foschia non nebbia foschia alle 15 sempre di domani sabato a Genova avremo Sampdoria Lazio Macaia ci saranno delle nuvole basse molto umido però insomma tra una nuvola bassa e l'altra perché non sono tutte in fila senza soluzione di continuità ogni tanto un'occhiata di sole poi alle 15.30 a Taggia avremo per i regionali il Borghi Madonna dei Borghi San Rocco Maga United Villa Real eh l'accedente addirittura come vi siete sbizzaretti con questi nomi comunque se il tutto si svolge a Taggia il cielo sarà poco nuvoloso alle 20.45 sempre di sabato a Roma all'Olimpico Roma Milan con un cielo generalmente nuvoloso anche lì un po' di foschia farà piuttosto caldo perché c'è dello scirocco inato su Roma e poi infine terminiamo con la domenica alle ore 14.30 loanesi credo a Loano Argentina non certo in Argentina avremo un cielo poco nuvoloso domenica con un bel tempo e anche farà abbastanza caldo qui sulla nostra riviera in ultimo situazione neve in generale sempre buona però una raccomandazione mi metto gli occhiali perché faccia più effetto questa raccomandazione è di non fare il fuori pista perché sabato e domenica cioè domani e domenica ci sarà un forte aumento delle temperature anche in quota e questo potrà determinare slavine e valanghi quindi amici che andate per gli sport invernali divertitevi come volete ma in pista fuori pista cercate di evitarlo perché c'è veramente il rischio elevato marcato di slavine e valanghi termino grazie a tutti per l'attenzione di averci seguiti tutti gli amici di sportivi ricevano da me i più i più cordiali auguri di buon Natale ci vedremo presto ciao Paolo ciao Gerson e ancora auguri a voi grazie Achille degli auguri anche tu senti ti metto la musichetta sarà contentissimo sarà contentissimo felice felice grazie Achille il mio sassofonista che suona e siamo ai pronostici mi interessano esche questa settimana tutte le persone che ci ascoltano stanno aspettando questo momento con grande trepidazione ho indovinato il risultato da Juve la settimana scorsa il 3 a 0 ti avevo detto 3 a 0 e lo pagava l'8 lo pagava l'8 non ha contributi che possano suffragare la tua tesi comunque io avevo detto 3 a 0 io non ci credo comunque allora partiamo da Cagliari-Juve che si sta giocando in questo momento a quest'ora dovrebbe essere finito più o meno il primo tempo noi non sappiamo nulla però sappiamo solo che Chiellini si è fatto male sì purtroppo non c'è non c'è comunque Juve vince 3 a 1 3 a 1 per la Juve 3 a 1 per la Juve si sta giocando a Parma quindi c'è anche Pinilla segna per la Juve il Cagliari Pinilla Pinilla lo segno Pinilla Pinilla io invece credo che il Cagliari vincerà 3 a 2 cosa? qual è il problema? va bene dovresti essere solo che contento sei sempre contro la Juve e gli porti buono va bene Inter-Genua Inter-Genua l'Inter deve passare un buon Natale dopo la partita persa a Lazio a Lazio ha perso a Lazio e quindi c'era un rigore grande come una casa quindi vince in regia bugiscono 2 a 0 2 a 0 allora 2 a 0 chi sarà l'arbitro di Inter-Genua? lo sai già? sarà Rizzoli? non mi interessa più l'arbitro ormai non li guardo neanche più Inter-Genua 2 a 2 2 a 2 va bene ancora io del nero forse con quei baffi che ci andavano in bocca dicevi non ho capito bene 2 a 1 2 a 1 chi segna? Miccoli 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 doppietta di Miccoli allora io dico che Palermo-Fiorentina vedrà la Fiorentina vincere una partita sofferta 3 a 2 però alla fine Roma-Milan andiamo su Roma-Milan Roma-Milan bella partita devo iniziare io questa volta grazie Paolo ma hai preso in controtempo allora Roma-Milan io direi 3 a 1 per la Roma 3 a 1 per la Roma così almeno a Natale o a Santo Stefano dovrà intervenire nuovamente il proprietario del Milan io dico 2 a 2 2 a 2 2 a 2 San Plazio San Plazio eh beh vince il nuovo allenatore Rossi io dico o 0 a 0 o 1 a 1 1 a 0 io facciamo 0 a 0 per me tu hai detto 1 a 0 per la Samp e Siena-Napoli chiudiamo Siena-Napoli Siena-Napoli un'altra sfida testa-coda quasi però credo che il Napoli dopo due sconfitte consecutive col Bologna possa rialzarsi io dico 2 a 1 2 a 1 tu dici tu? io dico 3 a 0 ok per il Napoli va bene 2 a 1 tu per Siena? 2 a 1 per il Napoli ah per il Napoli assolutamente perché Siena ha cambiato anche lui allenatore allora facciamo vedere vediamo un po' la lavagna cosa ci propone passate un buon Natale scommettete con noi vincete con noi e come dice Paolo pensa se uscissero veramente e noi non ce li siamo giocati ma noi li giochiamo li giochiamo un comunicato la società sportiva argentina arma il giorno 5-1 2013 alle ore 9-30 organizza presso il centro sportivo Ezio Sclavi una festa per i propri tesserati del settore giovanile vi attendiamo numerosi così dice la società auguriamo a tutte le famiglie un felice sereno Natale eh insomma sarà sicuramente sereno arrivare in prima squadra perché a prescindere dal risultato di Roano prima dei degli auguri a tutti di saluti una nota dolente purtroppo ci ha lasciato proprio in questi giorni l'ex segretario della Sanremese Gianni Nato un amico che abbiamo conosciuto in molte battaglie sportive diciamo così e le condolienze della degli eh non ce li riesco neanche a dirlo dirgli tu della trasmissione sportivi a tutta la famiglia condolienze e un saluto a Gianni assolutamente sì assolutamente sì non il miglior modo per lasciare questo 2012 sportivo peccato no? bene Paolo siamo giunti a conclusione dobbiamo ricordare un paio di cose sì il 28 di dicembre cosa succederà su Liguria TG24 andrà in onda la partita di pallanuoto delle campionesse d'Europa quindi Supercoppa hanno vinto la Supercoppa d'Europa Supercoppa d'Europa Germania contro Rappallo Imperia Rappallo dalle ore 21 se non va verrato con la telecronaca di Damiano Di Giuseppe commento tecnico affidato a Paolo Staltari cose da fine del mondo auguri a tutti i nostri sponsor li ringraziamo ci vedremo nel 2013 un augurio anche a tutti i nostri tecnici a la Maura Tavalazzi che ci sta riprendendo ci sta sempre aiutando nelle nostre con sommaggione trasmissioni a Andrea Lombardi a Franco a Pino Marcianò e alle loro famiglie al nostro boss Alberto Guasco e a Marzia Taruppi e a tutti voi che ci vedete da casa assolutamente buona continuazione auguri Gerson a te famiglia e tutti e ricordate pagina di Facebook Sport TV aggiungetevi mi piace rimanete aggiornati con noi fateci le vostre richieste oppure Sport TV chiocciola TG Riviera dei Fiori punto it e noi ci vediamo l'11 gennaio 2013 alle 20.45 sempre dagli schermi di Liguria TG 24 io e Gerson Macieli ciao a tutti ciao a tutti